Questo video è sponsorizzato da DrSmile Doppietta, doppietta per la Sicilia, nuova città, ci troviamo a Messina Dopo il futuro di Palermo per me la Sicilia è solamente sinonimo di dolci assurdi, spettacolari Sarò qui per neanche un giorno perciò ci faremo malissimo ma mangeremo benissimo e godremo tantissimo E quindi direi di iniziare con i dolci ovviamente Prima tappa di questo foodtour, Bar Torino per farsi una bella granita e brioche, così di prima mattina Per colazione da 2 euro granita e caffè con panna e brioche La tradizione vuole che si scapocchi la brioche, brioche in una mano, cucchiaio nell'altra e si scava No si scava, olle, guarda qua, che bellezza Amici miei benvenuti in Sicilia a Messina, buona appetita a tutti Bella questa, panna fresca, artigianale, dolce, spumosa, non so se ci si rende conto del fatto di quanto sia densa questa panna Sembra neve, scavichiamo un po' la panna e arriviamo alla granita La granita a Messina non è una granita normale, è una granita più tendente al gelato, con il ghiaccio, bella fresca Questa non è una granita, questa non è una granita questa, è un tapolavoro La Sicilia non delude mai e penso che mai lo farà Però se devo dirvela tutta non mi sento ancora soddisfatto del dolce per questa mattina Perciò secondo round, pasticceria Ragusa Il lulù, la mia pasta preferita che prendo a grosseto tutte le domeniche praticamente Non sapevo fosse tipico qua di Messina, mi sono preso due lulù, due luluini Uno alla crema chantilly, credo, e uno al cioccolato Andiamo al taste test, sono molto leggeri Cioccolato non male, però sapete che io ho un debole per la crema È assurdo perché sono leggerissimi, sembra che dentro non ci sia niente Però sono pieni fino all'orlo, sono delle piccole bombette Anche se per fare le cose seriamente avrei dovuto prendere il lulù grande Però c'è un sacco di roba a mangiare, infatti proseguiamo Allora per il dolce direi che per adesso possiamo anche fermarci Siamo qui a Messina, non siamo a Palermo Perciò è arrivato il momento di andare a mangiare i famosi arancini Qui la punta E per i pezzi super arroganti di rosticceria siciliana Qui a Messina opto per rosticceria famulari Apprezzata veramente da tantissime persone Penso che tutti voi me l'abbiate consigliata Lo sapete? Lo sapete che colore è questo? Non è arancione, questo è il colore della rosticceria siciliana È il mio colore preferito forse Mi sono preso un bel arancino al ragù Un arancino al pistacchio E poi il San Daniele Che è questo pezzo di rosticceria Con la sfoglia e dentro formaggio e prosciutto cotto Arancini maschi con un notevole peso specifico Oserei dire Guardate che spettacolo Che cola tutto Bello filante Questo non si tiene Questo è una roba arrogantissima C'è niente a fa C'è niente a fa La natura all'esterno croccantissima Riso Buono Saporito E il sugo ragazzi Cioè il sugo è qualcosa di Orgasmo culinario Da orgasmo culinario Per fortuna Per fortuna che non vivo in Sicilia Filantissimo Granella di pistacchio Formaggio Punto E pistacchioso Niente di meglio alla vita Il pistacchio è una botta C'è proprio uno schiaffo di pistacchio Preferivo quello al ragù Perché questo qui È leggermente dolciastro Ma se facessi una cosa del genere Che mi dite? Oh mio Dio Una ragnatela Chiamo l'orgasmo culinario Profumo di impasto di sfoglia Formaggio Ma che è? Oh 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 Non c'è la foglio Oddio santo San Daniele ragazzi Sfoglia i bordi Croccante Mezzo morbida L'impasto ha proprio un buon sapore L'interno cremoso Filante Saporito Sono felice di essere in Sicilia Sono quei cibi che mi mancheranno Quando tornerò a casa Questi È veramente speciale È una soddisfazione fare il food tour Nel sud Italia Perché ad ogni morso Senti proprio L'amore La passione Per il cibo Che sì C'è in tutta Italia Però in particolar modo Traspare qui Nei cibi del sud Alternare Dolce e salato È la cosa migliore Nel food tour E il dolce che sto cercando È la pignolata Quando me l'avete detto Io mi sono immaginato Una sorta di Torta secca Con i pinoli Vediamo se ci ho azzeccato Proviamo con la pasticceria Di pietro Ho cannato in pieno Proprio Cioè non c'entra assolutamente niente Quello che mi era immaginato Ok magari il didò Non è il miglior modo Per fare un calco dentale Però Per farvi capire Questi qui Sono i denti Che avevo io Dai 10 anni Fino ai 18 anni Questa qui è l'arcata superiore Mentre questa qui È quella inferiore Mentre adesso Questi qui Sono i denti Che ho Adesso Sono leggermente Che ho dritti Questo è stato possibile Grazie all'apparecchio Però Non Un semplice apparecchio Infatti Dovete sapere che Oltre al classico apparecchio Ovvero le piastrine Che sono super scomode Ti tagliano la bocca Devi metterci la cera Non sono belle esteticamente Esiste una nuova tipologia di apparecchio Che sta sviluppando Appunto DrSmile Consiste essenzialmente In delle mascherine Invisibili Che ti metti Sopra i denti Il meccanismo secondo il quale Funziona questa tipologia di apparecchio È che queste mascherine Le devi cambiare Ogni tot di tempo E la forma della mascherina La forma dei denti Diventa mano a mano Sempre più dritta È un processo che può durare Dai 4 ai 9 mesi E ovviamente La prima mascherina Avrà la forma dei denti Abbastanza storti La forma di partenza Per poi arrivare Alla forma finale Ovvero di tutti i denti Belli dritti Belli ordinati Perciò DrSmile Ti dà la possibilità Di fare una visita Senza alcun impegno Anche Con la scansione Dei denti 3D Nella sede Più vicina a te E le sedi di DrSmile Le puoi trovare Digitando la tua città Nel link che trovi in descrizione E vedere qual è quella più vicina I prezzi dei trattamenti Partono da una base Di 33 euro E ovviamente dipendono Da quanto si hanno storti i denti Praticamente Ad esempio io Per avere i denti dritti Da questa condizione qui Ci ho messo All'incirca Un annetto Ogni due settimane Cambiamo le mascherine Le tenevo tutto il giorno Ma le toglievo solamente Durante i pasti E niente Sono super comode Perché non si vedono Essenzialmente Riesce a parlare benissimo Se siete curiosi Se avete anche problemi lievi O più complessi Ad esempio nel mio caso Senza assolutamente Alcun impegno Visite la DrSmile Così per capire meglio Come funziona A questo prodotto Vi lascio il link In descrizione Di questo video E nel commento Pinnato in alto E adesso ho sentito Anche che è scontato Di 300 euro Perciò Io un pensierino Ce lo farei I denti sono importanti Ragazzi Non solo esteticamente Ma anche dal punto di vista Della salute Da come si chiude la bocca Derivano moltissimi problemi Però adesso torniamo al video Torniamo a sfruttare i denti Per mangiare Pignolata Un dolce Metà cioccolato bianco E metà cioccolato nero Fondente Ancora non riesco a capire Cosa sia esattamente Montagne di glassa Non so neanche come si mangia Vabbè io stacco un tocco Se ce la faccio Ah ok Sono tipo biscotti glassati Mi sembra ci sia di rumo Nel cioccolato I biscotti dentro Non capisco cosa sono esattamente Sono abbastanza frollosi Mi sa che qui serviamo Un coltello effettivamente Ah ma invece di qua C'è la meringa Sono veramente strani Se sapete cosa sono Scrivetelo nei commenti Non male Mi sembra un po' Un dolce Di qualche tipo Un po' di regia Di festa Locale questo Sono qui Per me testa Dolce Per il leone Croce Salato E vince il leone Gioca in casa Andiamo per il salato Un posto che mi avete consigliato In tanti È focacceria Santoro Per andare a assaggiare La tipica Focaccia messinese Focaccia messinese Con pomodori Scarola a pezzi E formaggio Appena tirata fuori dal forno Calda calda Bella unta Andiamo a prenderci Un bel pezzettino Guardate la base Com'è bella croccante Oddio Un sapore particolarissimo Non so A cosa è dovuto Forse al formaggio Rimanda al cinghiale Un sapore selvaggio Eppure la carne Non c'è Il contrasto di consistenza Fra l'impasto in mezzo E la base È allucinante Mi sono scordato Un ingrediente fondamentale Che è colui Che dà Questo sapore Abbastanza forte E pungente Che sono le acciughe I siciliani Fra lo sfincione Fra questa focaccia Direi che ci sanno fare Con i prodotti da forno Ok adesso è il mio turno Vince il dolce Siamo a Messina Siamo in Sicilia Non posso non prendere Un cannolo siciliano E ho sentito che a Messina I migliori cannoli Vengono fatti Della dolceria Vediamo un po' E vediamo un po' A Messina Cosa combinano Con i cannoli Cannolo riempito Sul momento La cialda Mi sembra bella Non mi sembra una Di quelle cialde Amarognole Nel retro gusto Come topping C'è solamente La granella di nocciola Buona appetita a tutti Ricotta più liquida Meno densa Rispetto a quello Che ho mangiato a Palermo Fresca Sente proprio il sapone Della ricotta di pecora Non batte quelli di Palermo Perché mi manca Quella consistenza Proprio di Amore in bocca Ma comunque Il signor cannolo Che si distingue Dalle classiche E misere copie Che si trovano In giro per l'Italia Con tutto questo cibo È normale Sentirsi un po' Ingolfati Però Messina È così gentile Che oltre ad offrirvi Tutte queste prelibatezze Vi dà anche il modo Di digerire E proprio per questo Entra il gioco Il chiosco ottocentesco Aperto 24 ore su 24 Su Piazza Cairoli Con la sua bevanda A limone e sale Cheers Wow figo Salata Frizzante Dolce Ma che esperimento è Lo sto un po' vuoto adesso Svuotati Ok Mi sono spostato a Messina E infatti molti Tutti Mi avete detto Vai a mangiare La granita Da Bareden A Torrefaro L'unico problema È che Torrefaro È un po' distante Da Messina Sicché mi sono detto No vabbè Non ci vado Perché è troppo lontano Per dare troppo tempo Però che fai Cioè vieni a Messina Cioè da Reggio Calabria A Messina E non viene a mangiare La granita al Bareden Che dovrebbe essere La migliore di Messina Lo fai Io sono emozionato Di fronte a questa cosa La brioche Cioè È la mia testa Granita e brioche Pagato 3,50 euro Di più Di quello che abbiamo pagato Stamattina Che costava 2 euro Però Siamo a Torrefaro Al Bareden Allora Si scapocchia Come vuole la tradizione La cosa bella di qui È che Le brioche Vengono sfornate di continuo Questa prima non è calda Appena sfornata Però era lì sulla teglia Sulla carta a forno Proprio Granita Fresca fresca Anzi no Prima voglio assaggiare La panna da sola Scucchiaiamola bene bene Perché non esiste Una vasca Solamente di questa panna Dove potersi buttare Una piscina Facciamo le cose per me adesso Il sapore particolare Del pistacchio Non è né troppo dolce Né troppo pistacchioso Rispetto al bartorino di oggi Bareden lo batte Per la brioche Questa qui è veramente Superlativa Morbidissima Mentre per la granita Sarò ignorante Io Non sono un grandissimo esperto Però mi sembra Più o meno Allo stesso livello Se devo dirvi In tutta onestà Se non avete la possibilità Di venire qui a Torre del Faro State a Messina a mangiarla Non vi perdete Chissà quale esperienza Ci sono venuto Perché mi avete consigliato Tutti praticamente Quindi non sapevo Cosa aspettarmi E avrei l'impianto Se non ci fossi venuto Il fatto è che Non è una granita Vera e propria Con il ghiaccio È molto liquida Cioè Sembra più una bevanda Al pistacchio Cioè Questi qui sono degli Agglomerati Di ghiaccio tritato Però ecco Adesso posso vivere In pace con me stesso Ritornati al centro di Messina Ci troviamo Nei pressi del cimitero Non è bello dirlo Ci troviamo Nei pressi di Villa Dante Per andare a assaggiare Il famoso taglione In un chioschetto Street food Super mega street Il taglione Interiore di Manzo Cotto sulla piastra E a me sembra Una sorta Tipo di Intestino Budella Non so cosa sia Ho messo un po' di sale Ci andrebbe messo anche il limone Prima voglio assaggiarlo senza È pieno di mosche Piatto tipico di Messina Ma è buono L'assaggio adesso Oddio è sanissimo È gommoso No Cioè Io Ce l'ho in bocca E la parte che ho messo in bocca Non l'ho masticata Cioè non si rompe Quei denti La cosa particolare È che dentro C'è questa cosa qui Non so cos'è Tipo un patè Non lo so Che quando lo mordi Esce tutto Cioè Una roba Abbastanza inquietante Non va giù È gommosissimo È Schwing gum No Lo butto giù intero Va bene Timone Il sapore complessivamente Non è male C'è un po' di brace Il dentro Non so qualsiasi Non voglio saperlo Ha un sapore dolciastro Un po' salatino Siamo un po' Il fregatino no Adesso vi faccio vedere Quello che succede sotto i denti E capirete il perché È una cosa Molto Sgradevole Questi sono Le mani sono i miei denti E succede questo Cioè capite che E poi C'è La consistenza Capite che un dente umano Non può Mordere È il taglione No di prima provala Allora qui con me C'è anche Alessio Che ho messinese doc E non ha mai provato il taglione Ci provo eh No Ma l'esplosione Sì vabbè Come si fa a mandare giù La consistenza Non va giù Non fatelo Ma meno male Non l'avevo mai assaggiato Pagato questo piattino di taglione 3 euro Passiamo al prossimo va Per rifarci la bocca Altro piatto messinese È il famoso pitone Che quando me l'avete detto Nei commenti Io pensavo fosse una sorta di Schiaccio Un grissino Lungo In realtà è Essenzialmente una pizza fritta Un panzerotto E mi avete consigliato Di andarla a provare Dalla pitoneria Da portella Fun fact Per quanto riguarda Il pitone Infatti dovete sapere Che al mio diciottesimo Mi dettono una penitenza Di andare in un ristorante E chiedere Se facevano Il pitone All'epoca mi sembrava Una cosa molto strana Imbarazzante Perché Cioè chiedere un pitone A un ristorante Era una cosa Non aveva senso Però adesso Che sono chi a Messina Ha senso Questo è un pitone Cioè io ho chiesto Un pitone tradizionale Che c'è sempre scarola Formaggio Pomodori E acciughe Lo stesso condimento Che c'è nella focaccia È una delle cose più fritte Che io abbia mai visto È Trasù da olio proprio Cioè goccia l'olio Io farei la stessa tecnica Del panzerotto Quindi gli stacco Il sopra Lo faccio raffreddare Assaggiamo l'impasto Intanto Toccante fuori Morbido dentro Caldissimo È una palla di fuoco Facciamoli prendere aria bene Mi faccio malissimo Buon appetito a tutti Ustiniamoci la bocca Unto Frittissimo Filante Gli acciughe Cioè il condimento ci sta di brutto Perché gli acciughe danno quel sapore Abbastanza Asprognolo Potente Poi arriva il dolce della frittura È un po' il cugino croccante Del panzerotto pugliese questo Pagato 2,50 euro Dimensioni oneste Bello sostanzioso Messina Non ci delude Ancora una volta Verso l'ultimo cibo adesso E ultimo pasto qui a Messina Siamo arrivati fino alle 7 Siamo partiti stamattina alle 9 10 ore di futuro In giro per questa bellissima città È il turno Delle braciole Non ho trovato purtroppo Un ristorante aperto Che le facesse Con lo spiedo Con lo spiedino Ma ho trovato questo qui Vicino al Duomo Che le mette dentro Un bel painazzo Secondo me È comunque un'alternativa Dignitosa Per assaggiarle Anche qui Il nome mi ha tratto Super mega N'inganno Perché mi immaginavo Essenzialmente La rostinciana Delle costine E invece È carne di manzo Maiale Pollo Anche arrotolata Con dentro il pangrattato Sono una sorta di Polpettina Cotta Alla brace Di solito Ci mangia appunto Con lo spiedo E Questo qui È come arrotolata dentro Profumata di carne Mea Senta anche un po' Un pizzico di Formaggio Carne Questo qui Sia un po' Un po' Sapore di nonna Ho fatto un paiozzo classico Con insalata E braciole Semplice Semplice Non ci ho messo neanche Maionese Per non coprire troppo Il sapore I costi dei panini Si aggiano Intorno ai 2,50 3 euro Quindi Super mega cheap Ci sta di brutto Secondo me Dimensioni oneste Andiamo con la rush finale The last dance Buona petuta a tutti Il sapore è proprio Di carne Cotta La brace Questa crosticina esterna Da qui con I giganti di Messina Dietro Il municipio Io sono veramente Onorato Di aver fatto questo Food tour Qui a Messina E' stato veramente Fantastico Una giornata molto intensa La scoperta di tantissimi cibi Che mi nascondevo Questa città Fino ad oggi Grazie di avermi Riconsigliati a voi Nei commenti E su Instagram La Sicilia Non si smentisce Ancora una volta Io come al solito Spero di avervi fatto Scoprire dei nuovi cibi Dei posti dove venire A mangiare qui a Sicilia Ma soprattutto Spero di avervi fatto Scoprire una nuova città Nella quale venire A fare un bel viaggio Magari prima Andate a farvi un giro A Reggio Calabria Poi prendete l'aliscafo Mezz'oretta E poi venite qui a Messina Perché merita Veramente tantissimo Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi come al solito Ci vediamo prossimamente In un nuovo Bellissimo video Arrivederci